Il titolo è La verità dell'uomo nuovo. Cos'è la verità? Oggi, nel ventunesimo secolo, crediamo ingenuamente, come collettività, formata in numero maggiore d'anime bambine, che la verità sia quella che la maggioranza dice e afferma. La verità socialmente accettata, oggi, viene dal solo mondo esterno. Se un gruppo di studiosi, di scienziati, a seguito di ricerche ed esperimenti, giunge ad affermare qualcosa, che sia questo in campo medico, ingegneristico, filosofico, psicologico, allora quella sarà la verità. Pertanto, partiamo adesso da un altro punto di vista. Usciamo dalla visione collettiva e prendiamo un individuo. Consideriamo la visione, dallo sguardo di un essere umano molto più evoluto interiormente, dei suoi fratelli umani. Un essere dal cuore aperto, che percepisce e sente al di là dei sensi esterni. La sua anima ha già acquistato un buon dominio sulla personalità. Questo individuo non sentirà più, come verità, quella accettata dalle moltitudini. Percepirà interiormente una realtà ben diversa, sentirà col cuore e leggerà attraverso gli occhi di un altro essere, umano o animale, le fragilità, le sue inibizioni, le sue paure più antiche e nascoste. Non è forse questa una verità più degna di questo nome? Siamo quindi in mezzo a due fuochi. Da una parte la massa di esseri, non ancora definibili come individui, che non sanno chi sono, che si definiscono attraverso etichette, titoli di studio, relazioni di circostanza e convenienza, gerarchie basate sulla competizione e sul dominio. Questo potere è ottenuto e mantenuto attraverso il pensiero del darwinismo sociale, che porta il più debole a soccombera, il più forte, in qualsiasi campo. Per chi sottostà questa legge, l'unica verità è quella esteriore. Il secondo fuoco è la verità per l'uomo nuovo, quello che sta oggi rinascendo a se stesso. Questo tipo di essere umano può essere definito come una nuova specie, una specie figlia che si sta progressivamente separando dalla specie madre di origine. L'uomo nuovo si sente però ancora a disagio, perché è circondato dalla maggioranza di esseri appartenenti alla vecchia specie. L'uomo nuovo ha il cuore aperto, sente con i sensi dell'anima e soprattutto sa dove nasce la verità più autentica. Sa che questa è l'amore, il potere motivante dell'universo. Comprende che ogni apparenza esterna non cela che la verità una. Sa che già qualcuno prima di lui è venuto sulla terra ad incarnare quell'amore che lui dentro di sé sente. È cosciente che soltanto l'intelligenza unita all'amore possono portare alla manifestazione la volontà di vedere la verità.